Quali sono alcuni sintomi di bassa pressione sanguigna? I sintomi della bassa pressione sanguigna possono includere qualsiasi cosa, dalla pelle umida al dolore al petto, a seconda della causa della caduta della pressione sanguigna, della salute generale del paziente e di una serie di altri fattori. Conosciuto anche come ipotensione, la bassa pressione sanguigna può diventare un problema medico quando la pressione sanguigna scende abbastanza in basso da causare danni agli organi. Per le persone sotto shock dopo un trauma grave, può cadere rapidamente e rappresentare una minaccia per la salute immediata. Ci sono un certo numero di trattamenti disponibili per questa condizione. Conosciuto anche come ipotensione, bassa pressione sanguigna può verificarsi in seguito alla perdita di sangue, durante l'insufficienza cardiaca e in altri momenti. Alcune persone hanno la pressione sanguigna bassa cronica senza sintomi e non è motivo di preoccupazione, anche se sarà annotata sulla cartella clinica del paziente. Una volta che i sintomi iniziano a svilupparsi, può diventare un serio problema medico. Vertigini, svenimento, nausea e pelle umida sono tutti sintomi di bassa pressione sanguigna. Altri sintomi di bassa pressione sanguigna possono includere difficoltà di concentrazione, livello di coscienza alterato, nausea, depressione, sete e respiro superficiale o rapido. Questi sintomi si verificano perché il corpo non viene rifornito con abbastanza sangue e gli organi stanno lottando per ottenere abbastanza ossigeno per funzionare. I sintomi neurologici come vertigini tendono ad insorgere prima a causa della forte richiesta di ossigeno del cervello. In una condizione chiamata ipotensione posturale ortostatica, le persone avvertono un calo della pressione sanguigna quando si alzano in piedi perché i sistemi nei loro corpi che dovrebbero regolare la pressione sanguigna e compensare i cambiamenti di posizione non funzionano. Per questi individui, i sintomi della bassa pressione sanguigna si insorgere quando si è in piedi. Altre persone possono sviluppare pressione bassa a causa di perdita di sangue, insufficienza d'organe e una grande varietà di altre condizioni che possono venire con sintomi come convulsioni, dolore al petto, urina forte odore e difficoltà di respirazione. Quando le persone notano i sintomi della bassa pressione sanguigna, dovrebbero rivolgersi al medico. Un medico può eseguire una valutazione per determinare il motivo per cui la pressione sanguigna è bassa e può offrire opzioni di trattamento inclusi in farmaci. È particolarmente importante se i sintomi insorgono molto rapidamente o diventano debilitanti. La bassa pressione sanguigna a lungo termine può interferire con la funzione di organi come i reni, il cuore e il cervello. Questo può trasformarsi in danno permanente se non viene affrontato. Nelle persone con una storia di bassa pressione sanguigna, lo sviluppo dei sintomi può indicare un cambiamento di stato. La pressione arteriosa del paziente può essere anche inferiore al solito o nuovi problemi medici potrebbero interagire con la pressione bassa per causare sintomi.